aspetta andiamo alla dritta poi vedete i svolgi a destra e fare la rotatoria non vedi la sinistra guarda la macchina è una macchina è una macchina è un grasso non mi stia non mi fumo non mi fumo adesso voglio sapere il mio non mi fumo un metro di pane e dovevi affornarlo e mi sa spiegare se al bocciodromo e se al bocciodromo e vende pisei e vende le bocce qui al bocciodromo ma una boccia se è un piseo più grande non è quello se bocci ah non mi fumo non mi fumo grazie grazie saluta al mario non mi fumo non mi fumo non mi fumo non mi fumo ah 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 ah